Questi cantieri che in situazioni particolari dal 16 al 22 gennaio potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto della 10 fra Savona e il confine di Stato. In direzione Francia carreggiata nord tra Pietraligure e Albenga chiusura della corsia di sorpasso per installazione barriere di sicurezza. Fra Sanremo e Armaditaggia carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento sismico del viadotto San Romolo e Rio Foce-Taggia. In direzione Genova carreggiata sud tra Arma di Taggia e Imperia Ovest e carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento sismico del viadotto Taggia. Tra Albenga e Borghetto e Santo Spirito chiusura della corsia di sorpasso per installazione barriere di sicurezza.